Dal Parco San Felici alla Villa Comunale, alle piccole aree sparse in città, fino ai vialoni della periferia, l'operazione della riqualificazione del verde è cominciata. La Villa Comunale è stata sempre al centro dell'attenzione del Governo cittadino. Stamattina operai al lavoro per raccogliere immondizia abbandonata dopo l'ultimo weekend e segnalata da alcuni cittadini. Squadre impegnate a pulire la zona alle spalle della fontana, operazioni già in corso per tagliare l'erba e rendere i percorsi fruibili e sicuri. In Villa sarà potenziata anche la sorveglianza, dopo l'episodio registrato alcuni giorni fa, dal muretto di recinzione della Villa che versa su via Scillitani hanno lanciato pietre che hanno danneggiato due autovetture in transito. Gli imbecilli si divertono così. L'operazione verde interesserà anche altre zone della città, in programma la riqualificazione delle rotatorie, in particolare sulle tre corsie, qui c'è un progetto dell'amministrazione in sinergia con i privati, con la formula della sponsorizzazione, lavori di riqualificazione a carico delle aziende, con la possibilità di farsi pubblicità. Il progetto però è fermo da cinque mesi. Nei lavori di ordinaria amministrazione si incastrano tre grandi progetti per la riqualificazione di tre grandi aree. La zona che ospita l'ex distretto militare, l'area decente del campus per teo della FIGC in via De Petra e un programma integrato di intervento in via Sansevero per l'eliminazione del degrado e la realizzazione di edilizia sociale. Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo di intesa con l'ANCE. Resta la macchia del teatro mediterraneo, che non è poco.